Musica E' stata inaugurata ieri nella Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola, in piazza Plebiscito, la mostra fotografica a fatica, a cura di Rosario Morisieri. In esposizione fino al 30 novembre ci sono gli scatti a colori in bianco e nero di 27 fotografi che attraverso l'obiettivo amano raccontare Napoli e le sue sfumature. La mostra è dedicata alla fatica, intesa nel duplice significato di lavoro fisico e di mestiere e resterà aperta al pubblico fino a fine mese ad ingresso gratuito. Con proprio il sindaco dei Magistres lanciamo un nuovo contest che si doveva tenere entro quest'anno e pensammo di dedicarlo alla fatica. La fatica nel doppio uso che usiamo a Napoli, sia come indicare il lavoro che come la fatica fisica. Sono tutte fotografi amatoriali e semiprofessionisti, non fanno questo per vivere. Infatti la mia foto non c'è, io mi dedico soltanto a loro e alla cura delle loro fotografie e portarne in mostra. Tutta totalmente autoprodotta la mostra, tutto a costo nostro, non c'è nessuna sovvenzione, nessuno sponsor, solo per l'amore della fotografia e per la nostra città. C'è una foto bellissima a mio parere, non che le altre non lo sono, però c'è un anziano che cerca di alzarsi dalla panchina. A me dà la sensazione di un rinascere, di un alziamoci e comunque andiamo avanti nonostante i nostri dolori. gusta giusto 교 giusto giusto piаг giusto 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 giusti